Scesopoli, come saranno organizzate quelle giornate? Allora, innanzitutto, grazie al libro Nel Cuore di Scesopoli, ho proprio una serata, il 27, la sera aranica, con l'aiuto, l'appoggio dell'Associazione Culturale, la filodrammatica di Santa Brigida con i canti popolari, a raccontare proprio Scesopoli, il più grande progetto di accoglienza nei confronti di più di 800 bambini ebrei orfani sopravvissuti alla Shoah. Ma poi lavorerò, lavorerò nel senso, mi sono messa a disposizione su territorio, perché l'apertura straordinaria di Scesopoli e del museo è proprio la giornata del 27, con la presenza di scuole, ma anche l'apertura al pubblico che può comunque salire, e poi anche straordinariamente il 29, dove delle associazioni, delle comitive, dei circoli culturali si sono già portati avanti per prenotare una visita proprio guidata a Scesopoli e al museo. Questo vale anche per il 5 febbraio, che è la prima domenica del mese, dove in calendario l'apertura di Scesopoli è canonica, ma abbiamo già molte prenotazioni anche da parte proprio di organizzazioni culturali. continuerà questo percorso nei confronti delle scuole, perché alcuni istituti della Valle Seriana hanno già aderito e hanno dato la loro disponibilità, hanno mostrato interesse, a salire a Scesopoli a visitarla, a chiedere delle conferenze proprio in occasione della giornata della memoria per un approfondimento dell'argomento, del tema, che ci riguarda comunque sempre tantissimo. Io in particolare, come autrice, ho scritto anche il libro Un rifugio vicino al cielo, che racconta, che ricostruisce la storia di queste cinque famiglie italiane di religione ebraica, che proprio in tempo di guerra sono state accolte e salvate, hanno trovato salvezza e rifugio nel paesino di Ama, protette dall'intera popolazione. E in questi giorni, infatti, sono state invitate, abbonate sopra, per raccontare questa storia quasi nascosta, dimenticata, tenuta davvero segreta da parte di tutti gli abitanti, che è emersa solo due anni fa. E a Voltiere, intorno ai primi giorni di febbraio, ci sarà proprio questo pellegrinaggio, questo cammino, racconto, Scesopoli e le famiglie ebraiche nascoste ad Ama, il pellegrinaggio al binario 21 di Milano, da dove partivano i convogli diretti ad Auschwitz, e poi in primavera la conclusione, proprio sull'altopiano, a visitare il museo, Memoriale Scesopoli ebraica, e la colonia fascista che ha ospitato i bambini ebrei dopo la guerra.